Perdere una gamba, un braccio, in un incidente o in guerra è perdere molto di più. Può essere perdere se stessi. Per questo Disabili No Limits aggiunge qualcosa alla vita dei disabili. Aggiunge protesi e usili a tecnologia avanzata. Aggiunge lo sport e la sua energia. Aggiunge traguardi e successi che nella vita di prima non ci si era neanche immaginati. Sostienici. Fallo subito con un sms al 45518 o una chiamata da fisso. Regala un'opportunità. Salva il sogno. Grazie.